Buonasera, benvenuti al consueto appuntamento con l'informazione di Televomero. Una densa colonna di fumo visibile a distanza a Napoli si è alzata nella zona del porto a causa di un incendio di un capannone utilizzato abusivamente da extra comunitari come alloggio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Uno degli immigrati è rimasto ferito nel tentativo di saltare da un muro alto 5 metri per sfuggire alle fiamme. Traffico in tilta. Maxi incendio questa mattina in via Alessandro Volta a Napoli ad essere distrutto dalle fiamme un ricovero di fortuna occupato dai migrati nordafricani. A generare il rogo un allaccio abusivo di corrente realizzato dagli stessi senza fissa dimora. Le fiamme immediatamente hanno avvolto il locale a bruciare materassi, mobili e spazzatura. Una coltre di fumo nero ha immediatamente invaso il cielo. Le fiamme alte 4 metri hanno tenuto impegnate 5 autobotti dei vigili del fuoco per tutta la giornata. Feriti tre uomini, soccorsi dal personale del 118. A quanto affermato da uno scampato arrogo erano ben 24 gli occupanti che quotidianamente la notte trovavano riparo nella struttura che si affaccia sul deposito ANM Stella Polare. Il presidente della regione Campania Vincenzo De Luca ha annunciato un rimpasso delle deleghe con l'ingresso di 4 nuovi assessori. Bruno Di Scepolo con deleghe all'urbanistica, Ettore Cinque con deleghe al bilancio, Gerardo Capozza con deleghe alle attività produttive, Franco Roberti ex procuratore antimafia con deleghe alle politiche per la sicurezza. Lasciano la giunta Serena Angioli che aveva le deleghe ai fondi europei, politiche giovanili, cooperazione europea, bacino euro mediterraneo e Lidia D'Alessio che si occupava del bilancio. Amedeo Lepore che aveva la delega alle attività produttive assume invece la responsabilità di consigliere del presidente in ordine alla materia del ZES della Campania. Una vasta organizzazione dedita alla contraffazione è stata scoperta dalla Guardia di Finanza di Napoli. Gli uomini delle fiamme gialle sin dalle prime ore hanno eseguito numerose misure cautelarie emesse dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli su richiesta della direzione istituale antimafia. Cinque organizzazioni criminali che lavoravano insieme dando vita a una complessa ed efficiente macchina criminale capace di importare prodotti neutri dall'estero, falsificarli e farli arrivare sulle bancarelle di Napoli. Il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Napoli della Guardia di Finanza ha sgominato un'organizzazione composta da un totale di 75 persone dedita alla contraffazione e alla vendita di prodotti d'abbigliamento. 18 degli indagati sono stati arrestati su ordine del GIP del Tribunale di Napoli su richiesta della procura antimafia ad opera del sostituto procuratore Maurizio Giordano. Gli arrestati sono 14 italiani e 4 stranieri. L'organizzazione acquistava gli oggetti neutri dalla Turchia, li stoccava in Bulgaria per poi farli arrivare a Napoli e metterli in commercio attraverso una complessa rete logistica dislocata in diverse città italiane come Napoli, Livorno, Torino, Milano, Genova e Massa Carrara. I dettagli dell'operazione sono stati descritti nel corso di una conferenza stampa dal comandante provinciale della Guardia di Finanza di Napoli, il generale di brigata Gianluigi D'Alfonso. Un'organizzazione in bassa scala, in particolare cinque organizzazioni che operavano nella provincia di Napoli a livello internazionale in quanto si approvvigiavano dall'estero, in particolare dalla Turchia e dalla Bulgaria, poi vi era un'organizzazione nazionale che gestiva gli approvvigionamenti e poi c'era il terzo livello della cosiddetta manovalanza che commercializzava sul territorio questi prodotti. C'è da sottolineare che l'operazione di oggi è un'operazione, come ho già detto, di falsa scala che colpisce un fenomeno molto importante della contraffazione che ha conseguenze anche gravi sulla salute pubblica. Infatti molto spesso i prodotti sono prodotti alimentari, sono prodotti che vengono acquistati dai nostri figli e quindi possono provocare gravi danni anche alla loro salute. Con la punta di una trappa non rompeva il finestrino delle vetture bloccate nel traffico e poi con una pistola rapinava l'autista. Gli agenti della squadra mobile della questura di Napoli hanno arrestato un rapinatore seriale ritenuto responsabile di aver messo a segno numerose rapine sempre con lo stesso modus operandi. Si tratta di Antonio Di Franco, di 36 anni già notò le forze dell'ordine, che agiva in sella ad uno scooter in varie zone della città. Solo lo scorso 20 aprile, secondo gli investigatori, avrebbe messo a segno addirittura cinque rapine. Di Franco entrava in azione, sempre in sella ad uno scooter con targa alterata e con un casco e un cappuccio di colore nero per nascondere il viso. Sensibilizzare i cittadini e in particolar modo i giovani sui temi ambientali, aiutandole ad acquisire maggiore consapevolezza di quanto si possa fare anche con piccoli gesti quotidiani, per la formazione di una più attenta coscienza civica sui temi della sostenibilità ambientale. E' questo l'obiettivo del progetto Alberi per la città, l'iniziativa organizzata dal comune di Napoli insieme a Rotary Club del gruppo Partenopeo, che ha donato 36 ciliegi al centro di educazione ambientale Antonio D'Acunto, nel quartiere di Chiaiano. Intervenuti il vice sindaco di Napoli, Raffaele Del Giudice, e Rosanna Stellato, presidente del Rotary Club Napoli Castel Sant'Elmo. Questo diventa, ed è già il primo centro di educazione ambientale, nell'accezione più vasta del termine, perché non solo è possibile visitare questo centro, non solo è possibile qui venire a passare un po' di tempo utile, ma è possibile poi dall'altra parte portare il materiale che non deve essere abbandonato per le nostre state. Quindi un punto recuperato, un punto della città che insieme a delle bellissime sinergie, le scuole e i Rotary, oggi mette un altro passo in avanti rispetto a quella che è la tutela ambientale, ma soprattutto piantumare alberi. E piantumare alberi che fanno parte della storia di questo quartiere, che è molto importante. Le scuole sono fondamentali perché è alle nuove generazioni che noi dobbiamo dare il messaggio della tutela ambientale, che parte sicuramente dalla tutela degli alberi in città, ma continua appunto con la raccolta differenziata. Ecco il perché con l'OS ecologica, ecco il perché noi abbiamo voluto piantare ciliegi. Nella mattinata di ieri un neonato venuto alla luce da poche ore è rimasto ustionato. Durante il primo bagnetto nel roaming dell'ospedale salernitano San Giovanni di Dio, il Ruggi d'Aragona e il Piccolo per la direzione del San Leonardo ha riportato un'ustione di secondo grado che copre il 20% della corpo e interessa la parte degli arti inferiori ai glutei. Secondo la direzione strategica del nosocomio, la responsabile di reparto ha chiamato per consulenza il chirurgo pediatrico che, valutate le manifestazioni cutane, ha ritenuto preferibile il trasferimento precauzionale presso la TIN, il reparto di terapia intensiva neonatale dell'ospedale Cardarelli in Napoli al fine di garantire al piccolo la migliore assistenza possibile. Intanto, in mattinata, a nome della direzione strategica di tutta l'azienda, sono state presentate le scuse alla famiglia. In tempi rapidi saranno individuati gli eventuali responsabili e attivata la commissione disciplinare. Si chiude con più di 20.000 presenze la prima edizione di Napoli Città al Libro, il Salone del Libro e dell'Editoria, promosso dagli editori Guida, Polidoro e Roggiosi, con il patrocino della Regione e in collaborazione con il Comune. Oltre 300 appuntamenti, tra incontri con gli autori, reading, letture teatralizzate, esibizioni artistiche e canore, laboratori per bambini, firmacopie e 110 stand di editori nazionali e locali messi in campo che hanno animato il complesso monumentale di San Domenico Maggiore. Ascoltiamo il presidente della Banca di Credito Cooperativo di Napoli, Amedeo Manzo. Un grande evento, un momento culturale che è un ponte tra passato, presente e futuro. Napoli dimostra, con una grande raccolta, con un coinvolgimento straordinario di energia, di entusiasmo, ma direi anche di concreta attivazione di un modello di impresa fattivo, quello che altrove magari fanno da anni. Tra gli eventi, la presentazione del libro Ti chiamo tra un minuto, del giornalista di giudiziaria del mattino, Leandro Del Gaudio, è l'incontro con il magistrato Nicola Graziano, che ha presentato il suo matricola 001, realizzato anche grazie alle fotografie di Nicola Baldieri. Non possiamo parlare soltanto di fatti negativi in questa città, la città ci deve credere e deve unirsi attorno a questo progetto i tre folli, Guida, Roggiosi e Polidoro, che hanno creato appunto questa soluzione che deve essere incentivata, valorizzata in vista ancora di altri appuntamenti per l'anno prossimo. Immaginiamo una Napoli, capitale del libro, più forte di Torino, un derby calcistico, non calcistico ma narrativo. Con questo libro vogliamo aprire le porte a questo dialogo, a questa escursione, nei 40 anni della legge Basaglia. Appunto, 40 anni, sono bastati o ancora no? No, non sono bastati. Innanzitutto la legge Basaglia ha abolito gli ospedali civili, noi parliamo di OPG, ma il percorso è ancora lungo perché è un percorso di consapevolezza, di dignità, di disponibilità e soprattutto di dialogo con chi ha la sofferenza nella malattia mentale. Raccontare attraverso gli occhi di numeri e non di umini quello che è stata la sofferenza di 150 anni di psichiatria. E ora si pensa al futuro. Napoli città al libro sarà riproposto. I tre editori infatti vogliono legarlo sempre al centro storico per dargli una forte identità, al contrario di quanto accade con gli altri saloni italiani, ma la sede potrebbe cambiare e non è detto che sia un bene del comune. Notte di terrore per l'ex presidente del Consiglio ciriaco De Mita e sua moglie Anna Maria, vittime di una rapina all'interno della loro villa di Nusco. In quattro, secondo gli investigatori originali dell'est europeo, sono stati sorpresi dalla signora De Mita in camera da letto intorno alle 3.30. Indossavano guanti, avevano il volto coperto, ma secondo quanto riferito non erano armati. hanno quindi intimato a De Mita di aprire la cassaforta dalla quale hanno portato via monili, collane e preziosi. Presentata la non edizione è il forum a borsa della ricerca nella sala del senato accademico del campus di Fisciano all'Università di Salerno. Tra le altre è intervenuto anche Tommaso Aiello, direttore della fondazione Emblema. L'evento è stato organizzato dalla Fondazione Emblema, con l'Università di Salerno, la partecipazione alla Regione Campania e del PON Imprese e Competitività 2014-2020. Una a tre giorni che rappresenta un appuntamento annuale ideato per fare incontrare gruppi di ricerca, start-up, spin-off con imprese ed investitori e favorire la nascita di nuove collaborazioni. La borsa della ricerca in questi giorni ospiterà oltre 60 investitori fra aziende e fondi, delegazione di più di 30 università, in questo siamo cresciuti tantissimo, e in questi tre giorni organizzeremo oltre 800 appuntamenti fra un potenziale finanziatore e un gruppo di ricerca o uno spin-off. La scelta precisa è quella di creare uno strumento operativo e concreto per valorizzare la ricerca italiana e per farla diventare innovazione attraverso il raccordo con il mondo produttivo. È una rassegna letteraria che ha conosciuto nei suoi 23 anni di storia una crescita continua in termini di prestigio e riconoscimento istituzionale. Con queste parole Felice Napolitano, presidente della Fondazione Premio Cimitile, ha annunciato i vincitori dell'edizione 2018 in programma nel complesso delle Basiliche Paleocristiane del Comune Nolano dal 9 al 16 giugno prossimo. La Fondazione Premio Cimitile ha presentato presso la Sala Nassiria del Consiglio regionale della Campania la ventitreesima edizione della rassegna letteraria omonima, in programma dal 9 al 16 giugno prossimi. Il Premio Cimitile, guida editore, negli anni hanno voluto premiare e rendere protagonisti con le migliori firme del giornalismo e della letteratura italiana, anche e soprattutto gli inediti, scoprendo nuovi scrittori e ponendoli all'attenzione del panorama nazionale. Vincitrice dell'opera inedita del genere narrativo, Rita Muscardin, con lei mi sorride ancora, tra le opere edite, avvoltoi di Mario Giordano. Tra i premiati, il giornalista Carlo Verna e il capo del Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza, Alessandro Panza. Ascoltiamo Felice Napolitano, presidente della Fondazione. Il Premio Cimitile è una rassegna letteraria che ha conosciuto nei suoi 23 anni di storia una crescita continua in termini di prestigio e riconoscimento istituzionale, consolidando un posto privilegiato nel panorama nazionale delle iniziative culturali più importanti del nostro Paese. Oggi possiamo guardare a ciò che il Premio ha lasciato sul territorio, osservando non senza un pizzico di orgoglio quanto di buono abbia fatto e contribuito per il bene di Cimitile, del complesso basilicale, per la crescita culturale del territorio e della Regione Campania. Ciò rafforza in noi la consapevolezza di quanto la cultura, l'arte della scrittura, la passione per la lettura costituiscono la base di ogni arricchimento sociale, dandoci forza e spinta ulteriore per continuare a progettare e a realizzare iniziative culturali di questo spessore. Intervenuta Rosa D'Amelio, presidente del Consiglio regionale della Campania. 23 anni di un premio che sempre di più mette radici, sempre di più diventa un premio che in Regione Campania ci fa sentire protagonisti della scrittura, della cultura, perché leggere un libro, scrivere un libro è un elemento di grande rilevanza culturale e se oggi abbiamo un problema con le giovani generazioni nel mezzogiorno è che molto spesso non si legge abbastanza. I grandi campioni del Napoli Primavera che conquistarono con la maglia azzurra lo scudetto hanno affrontato in un amichevole la Giaesin, De Falco Immobiliare, squadra che milita nel torneo over 50 intersociale sul campo simpatia di Pianura. Siamo al campo simpatia per l'appuntamento annuale della Primavera del Napoli 78-79, vincitrice dello scudetto Primavera. Quest'anno l'incontro è stato riservato alla Giaesin, De Falco Immobiliare, formazione che milita nel campionato intersociale. Siamo con il capitano Costanzo Celestini della storica Primavera del Napoli 78-79 che ahimè detiene ancora l'unico titolo che il Napoli ha vinto con la Primavera, lo scudetto. Purtroppo, spero e mi auguro che il Napoli possa nel giro di poco tempo riuscire a battere questo nostro premato, però fu una soddisfazione enorme, è stata la prima volta che il tricolore fu messo sulla maglia azzurra e per noi è motivo di grande soddisfazione ogni anno poi rincontrarci, festeggiare e ricordarsi quel momento bellissimo che fu la finale col Torino. E infatti questa è la cosa bella, rincontrarsi quest'anno, vi incontrate e vi sfidate contro la Giaesin, De Falco Immobiliare? E beh, sicuramente perderanno, questa è una cosa soddata, però giustamente a noi fa piacere così, ancora una volta giocare, divertirsi e far felici in poi quelli che sono stati i nostri tifosi che ci hanno accompagnato pure poi nel nostro cammino quando siamo arrivati un po' più in alto, quindi è un motivo di prestigio e di felicità per tutti. Quest'anno il Napoli sfida la Giaesin, De Falco Immobiliare, Enzo. Abbiamo dovuto per forza cedere alle pressioni della tifoseria e accettare questo invito, assolutamente, per noi è un grandissimo onore perché chi come Lino Arienzo e me ha la passione, la mette in campo anche nonostante l'età e qualche chilo di troppo, entrare in campo, sfidare dei campioni che ormai sono nella leggenda perché poi da quella formazione hanno calcato palcoscenici importanti, tanti di loro tra cui anche la Serie A, per noi è un motivo di grande piacere, una serata estremamente all'insegna dell'amicizia, dello sport, forse quello veramente ancora amatoriale e pieno di passione e di volontà di far bene. Allora Lino, una vetrina importante per la Giaesin, De Falco Immobiliare, dal torneo di intersociale a sfidare il Napoli Primavera che è entrato nella storia. Assolutamente, il piacere di farlo come abbiamo sempre fatto all'insegna della Giaesin che poi si fonde con De Falco per l'intersociale e quella amatoriale. Questi signori che dopo tanti anni si rincontrano e vengono da tutti i posti, anche d'Italia, per fare questa partita a livello amatoriale, a grandi livelli tecnici, perché i livelli tecnici sono quelli, sposa proprio nel modo più assoluto quello che è il nostro modo di vedere, il calcio, dopo una certa età, insomma, fino a 20 anni abbiamo visto in un modo, adesso la vediamo per divertirci ed è veramente un divertimento stare con loro. Due carabinieri sono rimasti contusi nel tentativo di sedare una maxirissa tra i migrati nella tarda serata di ieri in piazza Principe e Umberto a Napoli lo scontro per futili motivi, sul posto sono intervenuti militari, uno di loro è rimasto contuso, un altro ha riportato una distorsione, uno dei partecipanti alla rissa, un algerino 29 anni, già noto alle forze dell'ordine per reati analoghi, è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale. Una mattina tra gli studenti di studi umanistici per Renato Cappuccio, direttore artistico del Napoli Teatro Festival, una lezione per approfondire il tema della cultura e per diffondere tra le giovani generazioni l'amore per il teatro. L'occasione di stamane è stata anche organizzata per presentare le metamorfosi del testo, tradurre e mettere in scena Shakespeare, realizzato in collaborazione con il master di secondo livello in drammaturgia e cinematografia. Cappuccio ha affrontato con gli studenti nel corso del suo intervento anche l'attualità del drammaturgo inglese. Abbiamo deciso di proporlo in questa discussione pubblica con i ragazzi dell'università perché si tratta di un classico che però viene riattivato, viene riscritto e il festival è molto attento a quelle che sono le operazioni della drammaturgia contemporanea. In Italia abbiamo vissuto un periodo singolare nell'ottocento quando c'è un compositore come Gioacchino Rossini ad appena 24 anni poteva entrare al teatro argentina e rappresentarvi il suo barbiere di Siviglia. Oggi nonostante ci picchiamo di essere moderni nessun ragazzo a 24 anni potrebbe entrare in un teatro lirico italiano anche se fosse un genio. E dunque lo scopo del Napoli Teatro Festival è rimettere al centro anche le scritture contemporanee, al centro della propria attività, della propria programmazione. Bene, è tutto per questa edizione. Grazie per essere stati con noi e arrivederci alle prossime edizioni come di consueto. Grazie per la visione!